Cosa provo adesso a vedere tutto in queste condizioni? Mi duele il cuore, purtroppo quando che passo mi ricordo gli anni che furono e vedere una situazione del genere mi duele il cuore. Ancora un caso di degrado in città, questa volta nel quartiere di Santa Bona, ridosso della chiesa dell'Immacolata. Questi sono gli impianti sportivi del comune e questo è il campetto da calcio della parrocchia. Immagini che raccontano da solo come questi impianti, costati milioni di vecchie lire, oggi siano lasciati all'incuria e all'indifferenza. Specialmente l'ultimo anno a questa parte, la situazione è questa qua che vediamo. Qui c'è insomma il comune, non si fa più vedere? Il comune è assente, di fatti io ieri ho parlato con il vigile, è all'assente qua vicino, gli ho fatto presente il problema e lui mi ha detto di andare in comune all'ufficio pubblico delle relazioni per fare un esposto. Però io ho pensato bene di chiamare anche la televisione perché si rende conto della situazione che c'è. La cancellata di Veltel, reti strappate fino al tabellone da basket letteralmente sparito raccontano da soli la situazione di quest'area che di notte diventerebbe anche area di piccolo spaccio. È già capitato, racconta Pinto, di raccogliere qualche siringa in una zona di giorno frequentata soprattutto da bambini. Una situazione che coinvolge anche la parrocchia con erba alta sul campetto lasciato incostodito. Basterebbe, suggerisce Pinto, un accordo tra curia e comune per mettere un custode che in campio potrebbe avere l'utilizzo gratuito della canonica. Basterebbe un po' di buona volontà insomma anziché indifferenza per tornare ai fasti di un tempo quando lo sport portava via dalla strada i ragazzi a rischio della vicina via Ronchese. Trent'anni fa parliamo, ho iniziato quel campo di paletto qua e che dopo sono stati montati i riflettori di qualcosa che è qua e anche il campo parrocchiale. Mi sono adoperato e la struttura era bellissima e funzionante e c'era moltissima gente che partecipava.